L'applauso organizzativo, l'applauso del parco della famiglia Varaschin, sentiamolo! L'applauso alla Valdo Gruppo, ai volontari e alla collaborazione della Proloco di San Pietro di Barbozza. Grazie, grazie a tutti i volontari, quelli che si sono impegnati per questa splendida giornata che ha visto circa 1600 partecipanti correre, camminare e passeggiare sulle colline. Valdo Biadenesi, questa manifestazione che ha coniugato ovviamente lo sport al territorio, senza dimenticare la solidarietà con parte del ricavato che sarà devoluto all'Avis di Valdo Biadene per il restauro del Tempio di Donatore. Carissimo, coni, ci siamo quasi, siamo pronti, se volete avvicinarvi partiamo con i ragazzi delle scuole, con gli Anner 14, quindi i primi 20 che sono arrivati, è un riconoscimento semplice, c'è un prodotto biologico, un pacco di pasta, una maglietta e i nostri più sentiti ringraziamenti per la loro presenza, poi per i primi 10 qualcosina di più e per i primi 3 qualcosina di più, però andiamo per gradi e partiremo dal numero 20 della categoria femminile, cominciamo. Gianluca? Facciamo avvicinare anche il presidente della Proloco di San Pietro di Barbozza, Daniele Sartori, il presidente dell'Avis di Valdo Biadene e Simone Gallina, un applauso ai nostri rappresentanti delle associazioni insieme alla Valdo Group. E allora partiamo, ventesima posizione, Anna Castellazza, l'applauso per la piccola Anna Castellazza al ventesima posizione, vediamo se arriva, andiamo avanti, forse sta arrivando Anna, se c'è, si faccia, eccola qui, diciannovesimo posto Veronica Mazzocco, facciamo l'applauso, diciottesimo posto Giovanna Berton, diciottesimo posto Chiara Geronazzo, sedicesimo posto Zambon Maria Sole, saliamo lungo la classifica, quindicesimo posto Gioia Assaieva, avanti, avanti ragazze, quattordicesimo posto Elena Geronazzo, tredicesimo posto Sofia Calabretto, dodicesimo posto Noemi Rebuli, undicesimo posto Elena Callegaro, ed ora saliamo tra i primi dieci con le medaglie, al decimo posto Chiara Lovadina, undicesimo posto, scusate, nono posto Marianna Squeri, all'ottavo posto Giulia Agostinetto, settimo posto Letizia Miotto, alla sesto posto Francesca Cifriani, qualche assente poi lo recupereremo, quinto posto Caterina Aureto, quarta posizione Marlene Zanotto, ed ora saliamo sul podio, terza posizione Chiara Callegaro, un attimo perché ci sono anche i fiori, l'applauso, al secondo posto Aurora Pasa, e al primo posto della 4 pass 6 chilometri femminile under 14, Melania Rebuli, i fiori e un bellissimo orologio offerto dall'orificeria Dalfabro, e i fiori dalla fioreria Diego, un applauso allora alla classifica femminile under 14, 6 chilometri grazie, grazie ragazze, vi lasciamo libere di scendere dal palco se qualcuna di queste ragazze che fosse stata chiamata e non avesse avuto la possibilità di salire a ricevere può venire qui adesso, chi non ha ricevuto, ecco adesso li recuperiamo tranquilli, tra pochissimo la premiazione dei maschietti invece, un attimo di pazienza perché c'era ancora qualcuno fuori dal palco, adesso dovremo essere in ordine bene bene appunto, allora i primi tre saranno premiati dai nostri presidenti della prologo dell'Avis e adesso cominciamo con la premiazione maschile under 14, 6 chilometri ed eccoci allora ventesimo posto maschile under 14, Andrea Martignago diciannovesimo posto, Lovadina Davide diciantesimo posto, Leonardo Squeri diciantesimo posto, Manuel Nardi sedicesimo posto, Nicola Bollotto quindicesimo posto, Mohamed Zizir al quattordicesimo posto, Abram Bellizzaroli al tredicesimo posto, Luca Bortolomiol dodicesimo posto, Giovanni Bortolin undicesimo posto per Marco Agostinetto ed ora decimo posto con le medaglie al decimo posto Alessandro Dallalonga Alessandro Dallalonga non l'abbiamo visto, adesso lo segneremo al nono posto, Leonardo Foley ottavo posto per Filippo Mondin andiamo avanti allora con il settimo posto Ashraf Gudadi sesto posizione per Nicolaas Nardi quinta posizione Marco Boschiero ed ora quarta posizione Stefano Callegaro entriamo sul podio al terzo posto Ryan El Corchi medaglia di bronzo dal presidente Daniele Sartori della Proloco di San Pietro di Barbozza secondo posto medaglia d'argento Leonardo Menegon guarda elementare prima posizione vince la sei chilometri maschile under 14 Giovanni Cipriani Simone Gallina presidente Avis Valdobbiadene premia il nostro Giovanni l'applauso al podio sono arrivati anche gli altri premiati un attimo sono ragazzi che vi raggiungono anche gli altri atleti premiati salite sul camion applauso anche a loro e allora l'applauso davvero a tutti i ragazzi dell'Under 14 complimenti 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 ragazzi scendete pure adesso se c'è ancora qualcun altro lo sistemiamo e procediamo con la premiazione della 12 chilometri femminile cinque atleti femminili cinque atleti femminili verranno premiati e poi cinque atleti maschili a tutti i ragazzi a tutti i ragazzi a tutti i ragazzi un attimo di pazienza perché ci hanno raggiunto anche le prime atlete che non avevano ricevuto la medaglia allora informazione dei servizi è stato smarrito un bar boncino e sta comunque arrivando l'hanno recuperato e lo stanno portando qui quindi chi ha smarrito un bar boncino magari viene nella zona premiazione così la identifichiamo bene allora attenzione adesso ci prepariamo per la premiazione della 12 chilometri femminile quinta classificata femminile a della 12 chilometri un'ora 15 minuti netti consuelo canel l'applauso possiamo premiare il presidente della proloco consuelo canel complimenti quarto posto un'ora 12 minuti netti valentina bonora anche lei sul podio sul palco podio ed ora podio vero terzo posto un'ora 11 minuti netti marzia signorotto che riceve anche una bottiglia commemorativa dal presidente dell'avis un attimo che sistemiamo complimenti allora anche a marzia signorotto secondo posto un'ora 05 e 20 maria teresa gasparin e vince la 12 chilometri femminile un'ora 02 e 20 complimenti laura bello complimenti anche i fiori e la nostra laura e anche al podio credo l'applauso alla classifica femminile ecco i fiori fioreria diego di valdo biadene grazie grazie alle nostre ragazze le lasciamo libera di scendere dal palco podio per procedere alla premiazione maschile alla quinto posto 51 minuti e 17 secondi Micael Todoverto quarta posizione 50 minuti e 15 in fafta Anas saliamo sul podio saliamo sul podio terza posizione 49 minuti e 15 Marco Tramet complimenti anche a Marco ed ora secondo il primo gradino del podio monopolizzati dalla famiglia Fregona al secondo posto 46 e 45 Lucio Fregona Già campione del mondo e laureato si ieri campione italiano CSI a Monza la categoria over 55 l'applauso a Lucio Fregona vince la 4 pass 12 km maschile 46 minuti netti Roberto Fregona e con questo grandissimo applauso vogliamo salutare anche la classifica maschile anche la classifica maschile con i primi 5 atleti classificatesi in questa edizione 2019 della 12 km complimenti complimenti ragazzi siete liberi di scendere per andare alla conclusione di questa nostra cerimonia di premiazione i gruppi i gruppi più numerosi che hanno partecipato a questa 4 pass 2019 adesso andremo a chiudere la premiazione con i gruppi chiediamo al non rappresentante di venire a ritirare appunto il riconoscimento partiamo dal primo il gruppo numeroso che si aggiunge questa speciale classifica dedicata ai gruppi Fitness Factory l'applauso al gruppo Fitness Factory se ci fosse una rappresentanza di questo gruppo Fitness Factory li invitiamo a raggiungerci Fitness Factory il gruppo più numeroso va bene andiamo avanti lo lasciamo un attimo in secondo piano il secondo posto è Nordic Walking Altamarca l'applauso anche a questo gruppo terzo posto terzo posto la classe 1965 San Giuseppe Cassola ecco qui la rappresentanza qui siamo al terzo gruppo complimenti tanto un attimo di pazienza ecco il premio lo facciamo consegnare ecco a voi complimenti grazie fermi un attimo fermi non è finita grazie ce n'è per tutti una bella borsa di prodotti e una confezione di Valdobbianne di OCG grazie quarta quattro gruppo il coro Voces Plavis ecco un corista volontario quinta posizione quinta posizione il gruppo Allegria di Barbisano gruppo Allegria di Barbisano li recupereremo dopo sesto posto gli amici del CAI di Cittadella se ci fosse un rappresentante degli amici del CAI di Cittadella lo invitiamo a ritirare il riconoscimento settimo posto la scuola materna Brunoro di San Pietro di Barbozza eccoli con dei piccoli rappresentanti venite venite sono pesanti però vediamo se c'è qualche aiuto bravissimi questo pesa eh ecco qua la borsa giratevi giratevi un bel sorriso l'applauso alla scuola materna di San Pietro ottavo posto il gruppo Sernaglia ed il Cementi a pari merito ottavo posto il Nordic Walking con Paolo Gaio capitanato da Paolo Gaio questo gruppo vediamo se ci fosse qualche rappresentante purtroppo i gruppi sono ancora sul tracciato quindi attenderemo un po' per poi riconsegnare i vari premi nono posto c'è un pari merito tra il gruppo aggredire il gruppo famiglia anche loro non sono pervenuti e chiudiamo il decimo posto con il gruppo di Collagù che chiude la classifica grazie grazie a tutti eccoci qua benissimo decima posizione gruppo di Collagù e c'è anche un rappresentante della Edil Cementi adesso si stimeremo farà da farà da passaggio intanto davvero noi cominciamo a ringraziare tutti voi per la presenza di questa mattinata oltre 1600 i partecipanti a questa giornata di festa grazie a tutti i volontari che si sono impegnati per l'ottima riuscita della manifestazione ovviamente grazie alla promotrice Valdo Group alla Proloquo di San Pietro di Barbozza ringraziamento per la collaborazione grazie all'Avis di Valdo Biadene a cui insomma parte del ricavato sarà poi devoluto per la causa del Tempio del Donatore grazie grazie davvero a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e l'appuntamento credo che sia proprio al prossimo anno grazie a tutti e buona continuazione grazie a tutti